Nel giorno in cui si celebra la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate a Castiglion Fiorentino, la cerimonia di commemorazione si è svolta presso il Monumento ai Caduti, alla presenza delle autorità civili, politiche, religiose e militari, oltre che delle associazioni famiglie cadute e dispersi in guerra, le organizzazioni dei mutilati combattenti arreduci, organizzazioni sindacali scolaresche, associazioni di volontariato e della cittadinanza. Dopo la cerimonia classica a seguire c'è stato il corteo che si è trasferito al sacrario dei caduti di tutte le guerre presso il Palazzo Comunale, dove è stato deposto un mazzo di fiori e osservato un momento di raccoglimento e preghiera. La bandiera a tricolore del Regno d'Italia è stata esposta presto le antiche carceri di Palazzo Pretorio. Si tratta di una bandiera militare di guerra di ridotte dimensioni, spiega Gustavo Cavallini, collezionista e membro dell'Associazione Nazionale Ingegneri e Trasmettitori Nucleo di Castiglion Fiorentino ed è riconoscibile in quanto presenta la testa coronata di tipo risorgimentale e lo stemma di Casa Savoia. Si tratta di un vessillo utilizzato non oltre la Prima Guerra Mondiale, date le ridotte dimensioni, è da escludere che si tratti di una bandiera di un reggimento o di un reparto, ma bensì utilizzata su un avamposto, un luogo di confine o un convoglio militare. Il 4 novembre l'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti del 1918 che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale. Anche Castiglion Fiorentino ricorda la festa nazionale che ha attraversato decenni di storia italiana dall'età liberale al fascismo all'Italia repubblicana. Il sacrario presso il palazzo comunale rappresenta un unicum ed un luogo di grande emozione per ricordare tutti i caduti della zona nelle guerre.